Torno sull'argomento banche, ovviamente, perché me lo chiedete, e più in generale sul sistema bancario. Vi avevo lasciato il video precedente, accennando alla riforma bancaria del 1936, dicendo che a mio parere era una buona riforma, anzi un'ottima riforma, ma senza spiegare i motivi del mio apprezzamento, cosa che invece farò in questo video. Dobbiamo partire, per la precisione, da dieci anni prima, dal 1926, perché in quell'anno viene emanata la prima legge bancaria. Ricordiamo che il fascismo, il regime, era molto attento a questo argomento, perché con ogni probabilità il caos che era avvenuto in Italia sul sistema bancario fin dall'Unità d'Italia era un po' alla base del malcontento che aveva poi permesso a Mussolini di prendere le redini del governo. Allora le banche, che erano praticamente tutte private, quando fallivano, fallivano, cioè a rimetterci i soldi erano anche i correntisti, che dalla sera alla mattina non si trovavano più i loro depositi sul conto. Quindi nel 1926 appunto il regime fascista mette mano a questo settore con questa legge bancaria che ha due caratteristiche principali. La prima è che fa diventare la Banca d'Italia l'unico istituto di emissione. Ricordiamo brevissimamente come nasce Banca d'Italia. Allora, dopo l'unità d'Italia ci sono sei istituti di emissione. Qualche decennio dopo, per la precisione del 1893, uno di questi sei istituti è la Banca Romana, va in netta crisi, anzi sull'orlo del falimento. Per salvarla quattro di questi istituti si fondono fra di loro, formando così la Banca d'Italia. Quindi quando nasce la Banca d'Italia, essendo fusione di quattro istituti privati, è una banca privata, non è l'unico istituto di emissione perché rimangono istituti di emissione il Banco di Sicilia e il Banco di Napoli. Con la riforma che abbiamo detto nel 1926 viene tolto al Banco di Sicilia e al Banco di Napoli la possibilità di emettere moneta e quindi la Banca d'Italia diventa l'unico istituto che emette moneta. Il secondo aspetto principale di questa riforma del 1926 è che alla Banca d'Italia vengono anche attribuiti dei compiti di vigilanza, anche se per la precisione ha dei poteri ancora abbastanza blandi in questo settore. Ebbene sappiamo che tre anni dopo, 1929, negli Stati Uniti scopia questa terribile crisi economica e che si espande un po' in tutto il mondo, da noi arriva all'inizio degli anni anni 30. E quindi nel 1936 il regime mette mano ancora a questo settore con questa seconda legge bancaria, stavolta molto più stringente rispetto alla prima. Allora innanzitutto viene nazionalizzata la Banca d'Italia, quindi diventa di fatto un ente di diritto pubblico. Poi viene, cioè gli si danno ancora più poteri per quanto riguarda la vigilanza nei confronti di tutte le banche che operano sul territorio italiano. Inoltre viene in pratica disegnato due tipi di banche, cioè gli istituti di credito che raccolgono risparmio a medio e lungo termine e le aziende di credito che invece raccolgono risparmio a breve termine. In questo 1936 poi accadono altre due cose importanti, cioè viene istituito l'IMI, l'istituto mobiliare italiano che ha lo scopo appunto di fornire finanziamenti a medio e lungo termine e soprattutto viene istituito l'IRI, l'istituto di ricostruzione industriale. Sappiamo che poi dopo verrà smantellato da Prodi, altra operazione deleteria tra l'Italia, ma comunque insomma. Nell'IRI appunto vengono convogliati pacchetti di controllo delle principali banche italiane e della struttura bancaria che esce da questa riforma che è particolarmente importante e decisiva anche, sarà decisiva anche nei decenni futuri. In pratica ci sono le BIN, banche di interesse nazionale, cioè sono strutturate come società per azioni e operano su tutto il territorio italiano, ma sono pochissime, il credito italiano, la banca commerciale, il Banco di Roma. Poi ci sono le banche territoriali che invece si estendevano generalmente su territori abbastanza limitati, a volte una sola provincia o poche province. Queste banche territoriali sono divise in due grandi gruppi, le casse di risparmio sotto il controllo pubblico e le banche popolari invece che sono private. Però attenzione, sono banche private sì, ma costituite normalmente in forma di società cooperative e con voto capitario. Che cosa vuol dire voto capitario? Vuol dire che in assemblea, quando gli azionisti votano, ogni azionista il suo voto vale 1, indipendentemente dal numero delle azioni possedute. Quindi se io ho un'azione e un'altra persona ha 10.000 azioni, quando votiamo il mio voto vale esattamente come il suo. Quindi diciamo che è azionariato diffuso oltretutto perché, altra cosa, viene impedito che qualsiasi società, ente o persona possa avere più del 5% del capitale della banca. Ma soprattutto alla Banca d'Italia viene demandato l'autorizzazione per l'apertura di sportelli o filiali bancari. E la Banca d'Italia mantiene una rigidissima politica in questo senso, cioè permette solo l'apertura di filiali strettamente nella zona di competenza, evitando che ci possano essere concorrenze tra i vari istituti. Che ne so, una banca popolare di Padova non poteva aprire uno sportello, una filiale a Vicenza, così come una banca popolare di Vicenza non poteva aprire uno sportello a Padova. Questa maniera di operare dava naturalmente grandi vantaggi alle banche perché, appunto, evitando la concorrenza, però, attenzione, questa è una cosa fondamentale, importantissima, che questi vantaggi comunque poi a cascata venivano redistribuiti questi benefici alla popolazione. Tanto sappiamo tutti le casse di risparmio, che appunto erano a controllo pubblico, erano tra gli istituti che maggiormente operavano in campo sociale. Ricordiamo tutti le ambulanze con la scritta cassa di risparmio, oppure, insomma, quando c'erano delle feste, si organizzavano così dei ritrovi, oppure da chi si andava a cercare una piccola sponsorizzazione o una grande sponsorizzazione? Dalle casse di risparmio che normalmente erano anche generose in tal senso, insomma. Quindi tutte queste organizzazioni di volontariato, comunque trovavano sovvenzioni dalle varie casse di risparmio, le trovavano anche dalle banche popolari, comunque, e in più le banche popolari distribuivano gli utili ai loro soci e ricordiamo, come ho detto prima, che godevano di un azionariato diffuso. Quindi diciamo che questo mercato protetto, ecco, aggiungiamo anche, ha giovato anche, dobbiamo dirlo, ai dipendenti delle banche che normalmente avevano mediamente uno stipendio superiore rispetto agli analoghi, insomma, compiti che svolgeva un impiegato in un'azienda privata. Ma soprattutto questa, diciamo, protezione della quale godevano le banche ha sempre permesso, appunto, alle banche di avere conti in ordine, bilanci in ordine. E quindi questo aumentava la fiducia da parte dei risparmiatori. Insomma, una situazione, non dico idilliaca, comunque una situazione che permetteva, che ha permesso lo sviluppo dell'Italia nel dopoguerra e che è stata totalmente sconvolta, scompaginata, in nome dell'efficienza, come vi ho già accennato, nel 1993. Quando abbiamo introdotto il TUB, cioè il testo unico bancario, ribadisco, presidente del Consiglio Giuliano Amato, presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalpro, riforma, a mia maniera di vedere, deleteria, della quale comunque vi parlerò in un prossimo video. Grazie.